Esami di maturità, mezzo milione di studenti alle prese con la prima prova scritta, montale, giovani e crisi, Shoah, ma anche bene comune e responsabilità della scienza, le tracce proposte. Economia dal G20 di Los Cabos, l'impegno per salvare l'euro e rilanciare la crescita, buona giornata per le borse con Milano a tirare la volata, intanto da Tenech giura il nuovo governo. Egitto è giallo sulle condizioni di Mubarak mentre sale la tensione alla vigilia dei risultati delle presidenziali, vittoria rivendicata sia dalla nomenclatura militare che dai fratelli musulmani. Giornata mondiale dei rifugiati, 58.000 a quelli accolti in Italia, nel Tg le storie fatte di coraggio e speranza di 10 giovani che sono riusciti a ricostruirsi una vita proprio nel nostro paese. In Nigeria accessi lo spargimento di sangue innocente, l'appello di Benedetto XVI dopo le stragi di cristiani. Non si persegue la vendetta, aggiunge il Papa, ma tutti cooperino per la pace. Le 19.41, buonasera e benvenuti al Tg2000. Buonasera a tutti voi. E dunque al via l'esame di maturità montale. I giovani lascio a tra gli argomenti affrontati da mezzo milione di studenti e per la prima volta le tracce sono arrivate online domani. La seconda prova, sentiamo. Il fatidico momento per circa mezzo milione di studenti è arrivato, l'esame di maturità. Oggi prima prova, quella di italiano, diverse le tracce proposte e per gli studenti che escono la domanda è immancabile. Tu cosa hai scelto? Io ho scelto il saggio breve di ambito tecnico-scientifico, che parlava praticamente della responsabilità della scienza e della tecnologia. Ho scelto la traccia sulla crisi e il confronto con i giovani. Quella della crisi era una traccia che comunque ci aspettavamo. Montale per esempio non ce l'aspettavamo e non l'avevamo nemmeno fatto come durante il programma italiano. In molti saranno stati sorpresi dalla proposta di un montale saggista per la tipologia dell'analisi del testo e che quindi probabilmente avrà tirato pochi esaminandi. Al contrario di quella attesissima su giovani e crisi nell'ambito socio-economico del saggio breve o articolo di giornale. Quello che salta agli occhi è la scelta di documenti tutto sommato piuttosto molto drammatici, piuttosto problematici e anche bizzarro che il documento Istat e quello che riporta un po' la storia di Steve Jobs in qualche modo mettono in dubbio, mettono alla fine di un corso di studi impegnativo come la scuola superiore, metta in dubbio l'utilità di studiare. Altre categorie riguardavano il concetto del labirinto nell'ambito storico-letterario o quello del rapporto tra bene individuale e bene comune, ambito storico-politico, mentre per l'ambito scientifico-tecnologico si è tornati a parlare di responsabilità della scienza. Il tema di ordine generale, invitando a riflettere sulle sfide e sogni della giovinezza, si profila come una scelta rischiosa per il pericolo di infilare una serie di banalità, mentre la traccia del tema storico sulla Shoah, a partire da una citazione di Anne Arendt, offriva stimoli nuovi rispetto al passato. Andata in archivio la prova scritta di italiano, arrivata per la prima volta dal Ministero per via telematica, con solo qualche piccolo intoppo, quale impressione generale emerge dalle tracce fornite? Riflettendo sull'area semantica delle parole utilizzate, moltissime sono parole legate alla crisi, all'impossibilità, al vuoto, al passare di tempo, a una negatività che un po' ci pervade e che i ragazzi sicuramente sentono intorno. Effetto G20, giornata positiva per le borse con Milano Capofila. Buone notizie anche sul fronte dello spread ad Atene, intanto giura il nuovo governo, mentre in Europa si discute la proposta di Monti di utilizzare il fondo salvastati per frenare la speculazione sui titoli di Stato. La giornata economica nel servizio di Giorgio Schiavoni. I paesi G20 dell'Eurozona adotteranno tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità e la stabilità dell'area. È la dichiarazione finale del vertice messicano di Los Cavos che ha visto i leader delle 20 maggiori economie riconoscere il valore del progetto e della valuta europea, accogliendo con favore le misure adottate nel vecchio continente per stabilizzare l'economia e il sistema finanziario. Allo scavo sono stati piantati i semi di una ripresa della zona euro, secondo la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, mentre il presidente americano Obama dice che l'Europa è pronta a prendere azioni coraggiose e decisive per risolvere la crisi. E a dare nuovo slancio ai 17 della moneta unica ci sono anche gli ultimi sviluppi politici ad Atene dove nel pomeriggio ha prestato giuramento il nuovo governo di Samaras, un passo avanti importante che fa ben sperare per un periodo di stabilità e governabilità in Grecia. L'ultima proposta sul piatto per uscire dalla crisi è del nostro premier Mario Monti, che vorrebbe utilizzare i soldi del Fondo Salva Stati per acquistare i titoli di Stato di quei paesi che pur rispettando gli impegni di bilancio concordati a livello europeo vengono penalizzati da spread elevati. L'idea sembra piacere ai mercati finanziari che fanno calare lo spread dei titoli di Stato italiani e spagnoli e premiano in particolare le borse di Milano e Madrid. Calo in aprile per fatturato e ordini dell'industria. Il primo scende dello 0,5% rispetto a marzo, trascinato in basso dall'estero e del 4,1% su base annua. Gli ordinativi scendono dell'1,9% su marzo, risentendo dell'andamento sull'estero e calano del 12,3% su base annua con una diminuzione più pronunciata per il mercato interno. La riforma del lavoro deve essere approvata in fretta ma il governo è pronto a correggerla. Il ministro Fornero stamattina alla Camera ribadisce la sua posizione e sugli esodati dice che è possibile una tutela per chi ha più di 62 anni. Intanto a Milano, Roma e Bari scendono in piazza i pensionati di CGL e Cisleguide. Sentiamo Luigi Ferraiolo. PD e PDL chiedono al governo una risposta immediata e solenne. Al massimo entro stasera o l'intesa di massima raggiunta ieri con il ministro del lavoro Elsa Fornero potrebbe saltare, facendo fallire il via libera al disegno di legge sul lavoro prima del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno. I due partiti di maggioranza chiedono impegni solenni sulla tutela degli esodati e sulla flessibilità in entrata dei lavoratori già contestata da Confindustria. Intanto in una relazione pressoché identica a quella letta lunedì in Senato, questa mattina il ministro del lavoro è tornato sulle cifre della discordia, circa 120 mila persone da tutelare complessivamente. Il linguaggio giornalistico ha usato indifferentemente i termini salvaguardati, esodati ed esodandi, collocati e collocandi in mobilità e così via. Sono sempre stata dell'avviso che la definizione corretta debba essere quella di lavoratori che meritano, pur con costi per la collettività, di essere salvaguardati dagli effetti del recente in asprimento dei requisiti per il pensionamento. Intanto questa mattina protesta in piazza dei pensionati di CGL, CISL e UIL a Roma, Milano e Bari. I sindacati tornano a chiedere al governo interventi a sostegno dei redditi da pensione a partire dalla riduzione del carico fiscale. Non è più possibile tollerare, ha affermato il numero uno della FNP CISL, Gigi Bonfanti, il continuo sperpero di soldi pubblici che viene puntualmente colmato da tasse che colpiscono anziani e lavoratori. Infine, nel disegno di legge delega sulla spending review, sono previsti la mobilità per gli statali e tagli agli organici dei ministeri ed enti. 155 sì, 3 no e 1 astenute. Il Senato vota a favore dell'arresto di Luigi Lusi, il tesoriere dell'ex Margherita implicato nella vicenda dei fondi sottratti al partito. Nel suo intervento prima del voto sull'autorizzazione al suo arresto, Lusi, indagato per associazione per delinquere, finalizzata all'appropriazione in debita, aveva detto no ad un approccio volto solo a trovare un capro espiatorio e a soddisfare chi evoca strumentalmente i forconi della piazza e trovare un colpevole per tutte le stagioni. In un momento difficilissimo di crisi finanziaria, aveva poi aggiunto Lusi, sento il dovere di pronunciare parole di scuse personali consapevole della necessità di un gesto di riparazione. Lotta, lotta tra la vita e la morte, l'ex presidente egiziano Osni Mubarak, tutto questo alla vigilia della diffusione dei risultati elettorali con i militari e i fratelli musulmani che rivendicano la vittoria delle presidenziali. È naturale che la tensione salga alle stelle, come ci spiega Augusto Cantelmi. Un passato che non muore, un futuro che non nasce, sospeso in una sorta di limbo, l'Egitto vive momenti cruciali della sua millenaria storia. La notizia della morte, poi smentita di Mubarak, si intreccia con l'attesa del risultato del ballottaggio. Domani si conoscerà il nome del nuovo presidente, il successore di fatto dell'ultimo faraone, sospeso tra la vita e la morte in un ospedale militare. L'annuncio del decesso del Raiz da parte dell'Agenzia di Stato viene subito confutato dai militari. Il giallo resta, la confusione aumenta tra la gente che torna a riempire Piazza Tahrir, ma aumenta anche il nervosismo per quello che potrebbe accadere tra poche ore, quando si conoscerà il nome del nuovo presidente. Muhammad Mursi, candidato dei fratelli musulmani, oppure Ahmed Shafiq, uomo di apparato vicino ai militari, nonché ultimo premier di Mubarak. Entrambi hanno già annunciato la loro vittoria, entrambi con percentuali intorno al 52%. Difficile credere che lo sconfitto accetterà di buon grado la decisione delle urne. La fratellanza musulmana si muove anche preventivamente. Se vince Shafiq, minaccia, sarà guerra tra popolo e militari. Intanto tra le strade del Cairo tornano i carri armati, come i tempi della cacciata del Raïs. Il sequestratore è catturato vivo, anche se ferito e i quattro stagi liberi. È finito dopo ore di paura ed ansia l'incubo in cui questa mattina è ripiombata a Tolosa, a pochi mesi dalla strage alla scuola ebraica compiuta dal gidaista Franco Algerino Mohamed Merah. Le squadre speciali venute dalle città vicine di Marsiglia e Bordeaux sono entrate in azione nel pomeriggio. Si sono udite tre esplosioni, probabilmente colpi di arma da fuoco e l'operazione si è conclusa nel giro di una decina di minuti. La città è rimasta con il fiato sospeso per tutto il giorno, nel ricordo ancora vivo della follia omicida che a marzo ha lasciato l'intera Francia sgomenta. Tutto è iniziato intorno alle 11 quando un uomo che ha detto di essere membro di Al-Qaeda è entrato nella filiale della banca CIC nel centro cittadino ed ha chiesto la consegna di una somma di denaro. Al rifiuto del cassiere ha estratto una pistola facendo fuoco in aria e il sequestratore ha poi chiesto di parlare con un negoziatore della polizia mentre tratteneva il direttore della filiale assieme ad altri tre impiegati. Monica, alle 19.52 quasi, è arrivato il momento di girare il mondo per vedere cos'altro è accaduto. Siria, due ordigni sono esplosi al passaggio di un convoglio di tre auto con a bordo l'inviato del lanza Claudio Accogli a Daraa, 100 km a sud della capitale Damasco. Un poliziotto è morto e tre sono stati feriti. Il leso Accogli è invece di 46 morti, tra cui 29 soldati il bilancio dell'ennesima giornata di scontri tra militari e truppe ribelli al regime baatista. Afghanistan è di 21 morti il bilancio delle vittime di un attentato kamikaze a Coast City nella parte sud orientale del paese asiatico. Un terrorista suicida a bordo di una moto si è fatto saltare in aria al passaggio di un convoglio di truppe NATO. Le vittime sono tre militari ISAF, un interprete locale e 17 civili. 32 i feriti. Medio Oriente, un ragazzo palestinese è stato ucciso e suo padre è rimasto ferito in un nuovo raid compiuto nel pomeriggio dall'aviazione israeliana sulla striscia di Gaza, controllata da Hamas. Padre e figlio sarebbero stati investiti dall'esplosione di un ordigno finito fuori bersaglio. In totale il numero dei palestinesi uccisi nella rinnovata spirale di scontri degli ultimi tre giorni sale ad otto, sei dei quali affiliati a fazioni armate. Brasile ha preso il via Rio de Janeiro, il vertice dell'ONU sull'ambiente. Da oggi fino a venerdì prossimo i grandi della terra lavoreranno ad un'intesa su un nuovo modello di sviluppo all'insegna della sostenibilità e dell'equità sociale. Proseguono le ricerche dei sette migranti che da ieri risultano dispersi nel canale di Otranto. È successo verso le 6.40 quando una piccola imbarcazione in vetroresina a motore con a bordo 11 migranti salpata dalla Grecia si è inabissata a circa 6 miglia a nord-ovest tra l'Euca e Torrevado. Due libici, un tunisino ed un afgano sono stati tratti in salvo e sbarcati all'Euca per poi venire trasferiti nell'ospedale di Tricase in provincia di Lecce. Queste invece sono storie con il segno positivo. Sono le storie di dieci rifugiati che a Roma hanno prodotto arte riciclando la plastica. Un'esperienza da raccontare nella giornata mondiale dei rifugiati. 58 mila solo in Italia. Sentiamo Maurizio Dischino. Sì Cucchi, cosa stai facendo adesso? Adesso faccio la colano con la bottiglia d'acqua. Il progetto si chiama Refugiscart, una geniale architettura di parole per un'idea dalla semplicità disarmante e virtuosa. Con la plastica riciclata si realizzano prodotti artistici da vendere, si produce un reddito per i rifugiati che ci lavorano e si aiuta a tener pulita la città di Roma. E non a caso il laboratorio ha sede in alcuni locali dati incomodato d'uso gratuito nella sede romana dell'azienda municipale Ambiente in piazza Caduti della Montagnola. Ogni mattina i ragazzi arrivano con la plastica messa da parte da negozi del quartiere. La pressano, la stirano, ne ricavano strisce che vengono assemblate su fogli di carta e poi nuovamente stirate. Poi i sarti fanno il resto. Grembiuli e borse, segnalibri e cestini, borselli e oggetti da esposizione. Abbiamo creato un progetto che ha consentito ad un gruppo di dieci rifugiati dal mese di agosto del 2011 di riciclare la bellezza di 2.500 kg di plastica e la loro vita è un po' cambiata. Con un investimento di 1.600 euro che finora ha prodotto vendite per 36.800 euro e permette ai giovani di percepire tra i 600 e i 700 euro al mese, Refugiscart ha cambiato la vita di dieci giovani provenienti da Guinea con Crimi, Geria, Senegal, Gambia, Burkina Faso e Mali, tutti con lo status di rifugiati o in attesa di tale riconoscimento, inseriti nel progetto dal Centro Astalli di Roma del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia che accoglie e orienta persone in fuga da persecuzioni, torture, guerre o povertà. È fondamentale accogliere persone che non decidono liberamente di venire in Italia e in Europa. meritano attenzione perché hanno già pagato sulla loro pelle un prezzo alto per rimanere in vita e per difendere le loro idee e la loro fede. Fare questo lavoro adesso che cosa significa? Vuol dire che i rifugiati hanno potere di partecipare del bene del comune. La Corte Costituzionale ha oggi dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 194 sull'aborto sollevata dal giudice tutelare del Tribunale di Spoleto. Sentiamo il commento del giurista Mirabelli nell'intervista realizzata da Leonardo Possati. Vediamo. La consulta dice noi dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 194, questione sollevata tempo fa da un giudice tutelare di Spoleto. Il caso è quello di una ragazza di 17 anni rivoltasi al consultorio decisa ad abortire senza consultare i propri genitori. A quel punto i servizi sociali si sono rivolti al giudice tutelare per avere l'autorizzazione e questi ha da parte sua rilevato un conflitto fra la legge 194 e quanto indicato dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo sulla tutela assoluta dell'embrione umano. Oggi la risposta della Suprema Corte. La Corte ha ritenuto che l'oggetto del giudizio che il giudice tutelare doveva compiere non era di autorizzare l'aborto della minore ma di verificare solamente se la minore aveva adeguata capacità di autodeterminarsi, di determinarsi se aveva una sufficiente maturità. Il pronunciamento della consulta tuttavia non nega che il tema sollevato dal giudice tutelare non abbia una sua consistenza nel merito anche alla luce degli ultimi pronunciamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La Corte Europea dei diritti dell'uomo nel novembre scorso ha in qualche modo rafforzato l'esigenza di tutela dell'embrione sia pure in un ambito che allora era diverso, cioè gli interventi sull'embrione e l'eventuale brevettabilità. I detenuti negli istituti penitenziari italiani sono oltre 66 mila. I dati sono stati resi noti questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione del protocollo siglato a Roma tra il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Anci e il Ministero della Giustizia. Obiettivo avviare chi è in carcere a lavori di pubblica utilità. Sentiamo come da Cesare Cavoli. I comuni daranno lavori detenuti favorendone così il cammino di reintegrazione all'interno della società e questo è il senso del protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della Giustizia e da Lanci per coinvolgere chi è in carcere in lavori da espletare nelle comunità locali, le quali potranno da subito mettere in cantiere proposte, comprese attività inerenti alla ricostruzione dei territori delle aree colpite recentemente dal terremoto. Soprattutto cercare di sfondare il muro del pregiudizio, portare il detenuto verso la rieducazione dimostrando che un detenuto che lavora non sottrae lavoro agli altri perché fa spesso dei lavori che altri si rifiutano di fare e per i quali comunque rimane lo spazio per tutti e che non è un pericolo ambulante perché naturalmente viene preselezionato perché possa svolgere questo compito in maniera da rasserenare tutta la comunità. L'intesa vuole essere un'iniziativa istituzionale, concreta e organica che faccia ordine nei tanti progetti sparsi nel nostro paese. In particolare l'accordo firmato oggi mira anche a migliorare in generale il livello e il numero di detenuti al lavoro, visto che infatti al 31 dicembre 2011 la quota degli occupati era di poco superiore al 10% contro una media del 40% relativo al 1991. Per i reclusi non è prevista remunerazione mentre il progetto sarà finanziato dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e dai comuni. I comuni sono tutti alle prese per esempio con la diminuzione delle manutenzioni o con la pulizia dei letti, dei fiumi, per dire il dissesto idrogeologico. Quindi tantissimi lavori possono essere fatti di piccola manutenzione. Da me l'accordo che ho fatto io col mio comune e col carcere mio è stato dove loro seguono l'utenzione delle piste ciclabili, danno l'impregnante al legno delle staccionate delle piste ciclabili e così via. Una vettura elettrica è stata donata oggi dal Papa alla sala stampa della Santa Sede. All'udienza generale poco prima della consegna della City Car Benedetto XVI ha anche rinnovato il suo appello alla salvaguardia dell'ambiente. Proprio adesso nel periodo delle vacanze possiamo maggiormente essere attenti, ha detto il Pontefice, agli 8 mila fedeli presenti nell'Aula Nervi alla bellezza della creazione e vedere trasparire nella natura la bellezza di Dio. Che cosa può fare la bellezza di Dio? E nell'udienza generale, Monica, il Papa ha poi lanciato un appello contro le violenze interreligiose divampate di nuovo in Nigeria. Allora sentiamo insieme il servizio di Paolo Fucili. È normale pregando chiedere a Dio qualcosa. Anche il Padre nostro che ci è stato insegnato da Gesù è una preghiera di richiesta. Ma se preghiamo davvero con il cuore aperto... C'è anche motivo di ringraziamento. Se siamo un po' attenti vediamo che da Dio riceviamo tante cose buone. Udienza generale di Benedetto XVI stamane in Aula Nervi, al riparo dall'AFA di Piazza San Pietro. Josef Ratzinger traccia un nuovo capitolo di quella specie di manuale della preghiera che le sue catechesi van componendo da qualche mercoledì. Riflessioni ispirate oggi al celebre inno di benedizione della lettera di Paolo agli Efesini, col pensiero rivolto anche alla stagione di vacanze e viaggi ormai prossima. Siate attenti e esorta il Papa a scorgere la bellezza della creazione in cui traspare il volto di Dio. Ma per questo ci vuole una preghiera costante, l'abitudine allo stare con Dio che genera uomini e donne animati dal desiderio non più di possesso e potere ma di amare e di servire. Ultime parole indirizzate alla Nigeria, teatro di nuovi atti di terrorismo contro i cristiani e scontri interreligiosi. Faccio appello ai responsabili delle violenze affinché cessi immediatamente lo spargimento di sangue di tanti innocenti. Basta con le vendette, chiede il Papa, è piena tutela del diritto di professare liberamente la propria fede. E anche per questa sera Monica abbiamo terminato, ma i nostri telespettatori non ci devono lasciare perché alle 20.30 subito dopo il rosario torneremo nel cuore dei giorni. Questa sera con Giuseppe Caporaso prima e Gian Piero Spirito dopo parleremo di caldo ma anche di sport ovviamente degli europei. Io vi ricordo invece alle 20.55 il consueto appuntamento con TG, TG, telegiornali a confronto. Allora grazie davvero per essere stati con noi, ci vediamo domani. Arrivederci!